Bene, ecco, allora iniziamo ufficialmente. Vi risaluto, vi do il buon pomeriggio. Ecco, saluto un po' di persone, vedo dei nomi conosciuti nella lista, quindi fate conto che vi abbia salutato personalmente, mi fa piacere. Io mi presento, sono Elena Vettore, sono un architetto, architetto junior, e mi occupo principalmente di edilizia sostenibile e autocostruzione. Quindi scrivo poi anche degli articoli per il biocalenda, e quindi partecipo, insomma, sia con la rivista sia con questo corso all'associazione, la biolca, che presenta, insomma, questo webinar. Per chi non la conoscesse, intanto presento un po' l'associazione. Mi ringrazio innanzitutto Mauro, Martina, che, per chi si è collegato prima, voi lo sapete già, insomma, faranno da moderatori, e vi aiuteranno nel caso ci fosse qualche problema. Si può usare la chat. E poi, ecco, l'associazione... Allora, scusate che mi sono scritta. Allora, beh, non trovo bene il foglio. Comunque, scusate, è l'inizio, sono un attimo in tilt. Ho trovato. Ecco, allora, la biolca è un'associazione culturale senza scopo di lucro che si ispira agli ideali di non violenza. È attiva dal 1977, occupandosi di informazione e formazione nell'ambito della tutela dell'ambiente e della salute. Ecco, poi io aggiungo anche questa mia considerazione personale, che in questo periodo è particolarmente importante, dato che, secondo me, supporta anche l'informazione indipendente e senza censure, cosa molto importante in questo periodo. Ecco, fatta la presentazione, insomma, io partirei con questo corso, anzi, con questo incontro, perché non l'ho chiamato corso perché voleva essere questo un momento per tutti noi che siamo chiusi a casa da parecchio tempo per riflettere proprio sul tema della casa e sul tema dell'abitare. E quindi questa volta non sarà un vero e proprio corso dove sarò io a spiegarvi quelle che, secondo me, sono le tecniche migliori. Ma cercherò, insomma, di stimolare le vostre riflessioni e poi, alla termine di questa lezione, vi presenterò un test che spero che compilerete la prossima settimana e mi invierete. Tramite questo test poi io potrò vedere a che cosa siete veramente interessati e se anche voi potete darmi qualche notizia, qualche... cioè, farmi capire quali sono le cose che vi interessano veramente del vivere nella vostra casa e avere quindi uno scambio reciproco questa volta. Quindi, in questo primo incontro io ho preparato un percorso anche, secondo me, un po' ironico, ecco, un po' leggero anche per concederci un momento un po' più un po' più leggero, insomma, in questo periodo in cui siamo un po' chiusi in casa. Quindi, io parto con questa prima immagine. Vedete già la presentazione, sì? Giusto? Mi date conferma? Sì? È partita? Io la vedo e se qualcuno ha problemi si conferma. Ok. E ti vediamo bene. Perfetto, benissimo. Bene, grazie. Ecco, questa prima immagine di un caffè, dato che abbiamo finito di mangiare da poco, serve per impostare un discorso un po' ampio che volevo fare e che secondo me sono riuscita a rendere un po' più semplice partendo da proprio da una cosa banale forse, come può essere un caffè. Quando ci facciamo un caffè sappiamo che la prima cosa di cui abbiamo bisogno è la materia prima di un caffè in polvere. Poi, per poterci fare questo semplicissimo caffè abbiamo bisogno di qualche attrezzo qui c'è un cucchiaino un altro strumento un po' più complesso che è la moka dobbiamo accendere il fuoco e quindi mettere la moka sopra un fornello dobbiamo avere anche un fornello quindi che è il mezzo diciamo che ti consente di trasformare questa sostanza e aspettare del tempo perché ovviamente questa trasformazione si verifichi infine usare anche questa usare una tazzina o un contenitore semplicemente per poter utilizzare il caffè quindi una cosa molto semplice e molto immediata che facciamo tutti i giorni senza neanche quasi pensarci pensando a questo procedimento molto semplice ecco a volte possiamo aver voglia di modificare magari questo procedimento o di velocizzarlo in questa diapositiva ho messo un orologio un po' più più grande perché il problema principale di tutti almeno finché ci muovevamo e lavoravamo di solito era il problema del tempo quindi forse il primo problema soprattutto la mattina è proprio quello di di voler velocizzare questo procedimento al che insomma ci rendiamo conto cioè iniziamo a pensare a dei modi in cui potremmo ottimizzare questo procedimento ad esempio ci sono altri fattori in questo questo questa trasformazione che sono un po' più critici ad esempio la moca poi ci pensiamo bene va lavata va preparata va pulita poi abbiamo bisogno di un cornello che è uno strumento comunque anche costoso e che però per fortuna abbiamo già in casa perché comunque copre anche altre funzioni e allora ci viene in mente ci sarà una possibilità per avere questo caffè in modo più veloce possiamo ottimizzare il procedimento quindi se in questo in questa ricerca qualcuno ci proponesse un modo semplicissimo che ci evita di usare fornello moca che poi va lavata di perdere tempo non si usa nemmeno il cucchiaino volendo se qualcuno ci propone qualcosa del genere io credo che facilmente ecco se ho unito qualcun altro buon pomeriggio e facilmente cercheremo questa scorciatoia oppure questa ottimizzazione insomma del nostro procedimento e quindi ecco qui la soluzione a tutti i nostri problemi una pausa ecco per cui si è appena unito io sento un po' di disturbo quindi se potete anche spegnere il microfono in modo da da non da non disturbare i fatti gli altri Elena? Sì? Mi senti? Sento qualcuno molto piano Hola Martina Ok ciao Sta registrando Mauro? Sì sì Sì? Ok Bene allora scusate ho scoperto ecco ho chiuso io il microfono bene scusate l'interruzione ma sentivo un po' di rumori quindi mi stavo distraendo bene eravamo arrivati alla soluzione di tutti i nostri problemi quindi io ho preso questa immagine di una pubblicità di questa di queste bellissime macchinette per fare il caffè che oltre a essere a risolvere tutti i nostri problemi quindi di tempo di magari dover pulire la moca avere la tazzina così risolve tutto quanto perché con un click ci fa istantaneamente il caffè in più è anche un po' uno stato simbol perché è molto bella è moderna nella stessa pubblicità c'erano delle persone che si facevano un selfie vicino alla macchinetta perché è bella di per sé è qualcosa di speciale di per sé quindi se qualcuno ci propone qualcosa del genere io credo che saremo tutti pronti a a scegliere questa nuova opzione insomma è veloce pulita e ci risolve un sacco di problemi addirittura possiamo eliminare il problema di lavare le tazzine usando dei bicchieri usa e getta facilissimi da usare istantanei e che non hanno bisogno neanche di avere magari in un ufficio di avere un lavandino di avere una spugna e tutto quello che insomma ne consegue ma questa scelta è corretta è vantaggiosa probabilmente è vantaggiosa in un primo momento poi se andiamo a pensare a quello che sta dietro questa scelta scopriamo che ci sono tutta una serie di problemi di lavorazioni che stanno dietro a questi prodotti che di facciata ci sembrano molto facili da usare molto molto veloci e che ci ottimizzano ecco tutte le nostre le nostre faccende anche quotidiane però per poterci dare questa velocità e questa anche facilità d'uso istantanea dobbiamo pagare un prezzo che spesso non riusciamo a vedere perché comunque tutto il mercato è un po' impostato anche su questa sulla sulla cercare di nascondere insomma tutte quelle che sono le problematiche che stanno dietro queste produzioni e quindi io ho semplificato molto però insomma sappiamo che magari una capsula si contiene del caffè ma poi comunque tutto l'involucro è composto magari di alluminio di plastica quindi va prodotto va estratto va prodotto trasformato alla fine del del suo uso verrà di nuovo ritrasformata quindi comunque verrà di nuovo sprecata energia probabilmente prodotto qualche sostanza inquinante e poi una parte comunque andrà in discarica lo stesso vale per la macchina del caffè che durerà molto meno della nostra vecchia moca e che quindi inquinerà anche molto di più e lo stesso vale per i bicchieri di plastica su cui tutti sicuramente credo che non saremo molto cioè sappiamo già tutto e non saremo sicuramente non useremo ecco sono quasi sicura di questo non considerando tra l'altro i possibili danni alla salute che questo può causare anzi se lo chiedete a me sinceramente non direi possibili danni ma direi sicuri danni alla salute che l'uso continuo di queste macchine può causare insomma quindi sì in facciata in superficie abbiamo velocizzato e ottimizzato il processo ma cosa ci è costato in tutta quella parte che noi non vediamo e che non consideriamo perché ovviamente è molto complessa ed è molto distante da noi ecco tutto quello che che un po' ho messo in questa diapositiva io ho voluto introdurre partire da questo discorso che riguarda ho fatto questo esempio cioè del del caffè per introdurre il discorso del del pensiero sistemico che è un pensiero molto complesso e vedete un po' il caos anche di questa diapositiva che che state vedendo perché ha tanti elementi e tante connessioni però è sicuramente il pensiero più complesso e che dà un'immagine della realtà più veritiera possibile sicuramente è difficile da gestire ma è il miglior tipo di pensiero che possiamo fare in questo caso poi ho evidenzato queste parole che sono utilizzate comunque nel pensiero sistemico perché evidenzano un po' una tecnica che è quella di trovare il problema principale o chiamiamolo non è proprio il problema la traduzione perfetta però il critical path e cercare di ecco ottimizzare partendo da quello che secondo noi è il punto principale il problema principale del nostro della nostra programmazione e del nostro sistema ecco ecco qui quindi il caffè e il pensiero sistemico tutto questo discorso con cui vi ho intrattenuto in questi minuti a cosa serve visto che siamo qui per parlare di casa il pensiero sistemico già per quanto riguarda il caffè era un po' un problema ma se lo applichiamo a una casa diventa di una complessità veramente difficile da gestire e quindi è comprensibile il perché ci siano anche tanti problemi tante opinioni diverse sul vivere la casa e tante soluzioni diverse tante che non basterebbe una vita per analizzarle tutte perché ovviamente la casa è fatta di materiali interagisce con l'ambiente esterno interagisce con il clima è abitata da delle persone e ogni persona ha una vita diversa stili di vita diversi bisogni diversi quindi il campo degli elementi e delle interazioni è praticamente infinito quindi io qui ho rappresentato un po' la casina dei nostri sogni circondata da pochissime frecce in realtà rispetto a quelle che sarebbero veramente utili in questo momento ma non ci mettiamo nemmeno a elencare tutti gli elementi che compongono il nostro vivere bene ecco perché sarebbero veramente tantissimi tanto per fare un esempio io anche un po' per sorridere abbiamo messo in questa diapositiva un elenco che io mi sono fatta per piacere personale di tutti quelli che possono essere gli elementi di una casa e le tecniche le strategie che servono per imparare per riuscire a vivere bene ecco questa è una piccola parte dell'elenco qui continua l'elenco non serve che lo leggiate o che si veda bene ma è solo per far vedere la la vastità dell'argomento quindi davanti a tutta questa vastità di problematiche di elementi di strategie noi cosa possiamo fare anch'io cosa posso fare per voi allora l'idea di questo corso è quella di trovare una leva che possa aiutarci a a chiarire le idee mantenendo comunque una visione aperta una visione sistemica quindi cercheremo di puntare su degli argomenti specifici e voi spero che cercherete di farmi capire cos'è quella cosa che che vi può spingere a voler migliorare la vostra la vostra abitazione e il luogo in cui vivete quindi spero di che troveremo insieme questa leva io adesso se volete posso fare una piccola pausa e poi vi faccio un esempio di come si può procedere nell'osservazione e nella soluzione di alcuni problemi legati alla casa quindi se qualcuno adesso vuole fare qualche domanda mi interrompo un attimo qualcuno vuole fare qualche domanda vediamo la chat ok direi di no bene ok allora continuo continuo con un un esempio scusate un esempio di secondo me un appartamento che è perfettamente nella media e che probabilmente è un appartamento che o in cui vivete o che sicuramente avete già visto da amici parenti e quant'altro si tratta di un appartamento degli anni 70 come ce ne sono tantissimi questo appartamento è al piano primo 75 metri quadri quindi sempre perfettamente nella media è esposto a sud ovest quindi per me questa è una buona esposizione anche se è molto è molto esposto al caldo in estate ecco e infatti è nonostante sia un appartamento degli anni 70 non isolato con nessuna particolare tipo di impianto certo una caldaia condensazione però non ha particolari accorgimenti ecco pur non avendo questi accorgimenti è quasi in classe B questo è dovuto alla sua ottima esposizione e al suo volume compatto e anche al fatto che comunque qui c'è una critica un po' da parte mia ma le classi energetiche non sono poi così così prestigiose ecco si poteva fare un po' di meglio una classe B che ci sembra già un'ottima classe perché è quasi a livello più alto anche se adesso poi ci sono altri livelli tutto sommato ci garantisce sicuramente un risparmio energetico ma non un risparmio elevato insomma quindi ecco tanto per far vedere questa cosa un appartamento senza isolamento senza niente è già quasi in classe B insomma in questo appartamento diciamo che i problemi principali erano legati a sì una sensazione di mancanza di comfort ecco quindi comunque nonostante tutto funzionasse perfettamente c'era si sentiva sempre questo questo sensazione di freddo invece in estate faceva troppo caldo e soprattutto il motivo poi per cui insomma la leva diciamo che ha fatto scattare la voglia di intervenire vari problemi di muffe di condense nella camera matrimoniale che quasi sempre insomma succede così perché è un po' la camera più grande la stanza più grande e anche quella di solito in angolo nel condominio e ecco e questo questo problema poi di muffe provocava anche forti problemi al proprietario che quindi non riusciva a dormire stava molto male insomma questa situazione aggravava i suoi problemi che comunque aveva già di allergie e di forte anche sensibilità insomma queste muffe e problemi di allergie alla polvere piantina del nostro appartamento qui abbiamo evidenziati i due punti proprio perché il problema principale era quello del comfort termico quindi in rosso evidenziato l'angolo dove c'erano muffe condense e invece in soggiorno in blu il punto in cui c'era il termostato quindi un punto anche non ottimo non proprio centrale nella casa e comunque era l'unico punto di regolazione di tutto l'appartamento l'esposizione qui si vede allora la camera che è quella principalmente quella stanza che aveva più problemi si trova con una parete a sud e una ad ovest due foto per farvi capire un po' un po' l'epoca del del tipo di appartamento e un po' la situazione insomma ecco la cosa buona di questo appartamento era le finestre che sono grandi e comunque diciamo di media qualità non modernissime però abbastanza isolate quindi il primo passo che potete fare anche voi nella vostra casa è quello di iniziare ad osservare quindi cercare di capire qual è veramente il problema e agire in modo mirato per capirlo bisogna osservare e capire cosa succede il primo mezzo semplicissimo è quello di fare una tabella e iniziare a controllare come varia la temperatura cioè iniziare a capire perché ci sono questi problemi quindi si può fare questa indagine si può fare con un termometro anche da parete insomma senza nessuna pretesa si può fare in modo molto più automatico con quei termometri che chiamo termometri ma insomma sono stazioni digitali che registrano i cambiamenti di temperatura e che quindi restituiscono già uno storico insomma dei cambi di temperatura però nulla toglie che con un po' di pazienza si possa fare anche a casa senza grandi mezzi senza nessun investimento allora in questo caso insomma ci sono state stata compilata poi a mano la tabella quindi si sono evidenzate un tot di cambiamenti di temperatura il secondo passo è stato analizzare i consumi questa casa veniva abitata solo cioè il riscaldamento veniva acceso solo la sera e appunto essendo tutto sommato ben esposta e ben protetta il costo non era poi così alto insomma nel 2018 questa è la spesa totale di gas quindi poco meno di 400 euro che è un'ottima cifra anche qui colgo l'occasione per dirvi per chiedervi se voi sapete quanto spendete per di riscaldamento di elettricità ecco io vi butto lì questa domanda intanto pensateci perché è un parametro molto importante per capire abitudini e eventualmente dispersioni che si possono risolvere altra cosa da notare analizzando le bollette è la cifra che adesso sono obbligati a mettere in bolletta che vi riassume si vede in questo cerchio col punto esclamativo vi riassume la cifra che pagate per metro cubo di gas e comprensiva delle tasse e la cifra della sola fornitura di gas diciamo che più o meno due terzi della vostra bolletta sono spese fisse quindi anche qui uno può fare un ragionamento al contrario rispetto alla tendenza sostenibile che che anch'io comunque promuovo e dire se tutto sommato se sono le spese fisse la quota più importante della mia bolletta allora tutto sommato risparmiare nei consumi non ha neanche tutto questo senso e il ragionamento secondo me se è integrato con altri interventi non è neanche sbagliato poi lo vedremo altra piccola analisi questa è presa da è una tabella molto semplice che è stata io ho preso dal sito my green buildings che a me piace molto e se qualcuno forse è un po' più tecnico so che c'è anche qualche architetto che si è collegato che ne aveva scritto e un'amica anche architetto quindi penso che per loro questo questo sito se non lo conoscono già sia veramente ottimo e con questa tabellina che ovviamente è molto 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 semplificata si può calcolare il risparmio economico che si può ottenere con un con un cappotto un cappotto un isolamento quindi inserendo pochi dati che però in questo caso bisogna avere comunque un minimo di conoscenza tecnica ma che vi spiego molto rapidamente ecco però con pochi passaggi si può avere un'idea dell'intervento i dati più tecnici da inserire sono la trasmittanza ante operam e la trasmittanza post operam cioè sono i due parametri che indicano praticamente che prima dell'intervento di isolamento c'era una trasmittanza di 1,20 quindi è una trasmittanza media del classico muro di forati da circa 30 centimetri che c'è praticamente in tutte le case dagli anni 60 70 80 insomma finché non si è iniziato a isolare le case sono quasi tutte così quindi volendo è un numero che potete utilizzare anche voi e poi invece quella post operam che io ho inserito in questo caso è una trasmittanza che si può ottenere con un piccolo pannello da circa 6 centimetri di materiale tipo fibra di legno più o meno anche sughero o calce canapa più o meno hanno valori un po' diversi ma diciamo che il range è simile quindi possiamo ragionevolmente usare questi parametri la superficie invece si ottiene semplicemente moltiplicando la lunghezza delle pareti per l'altezza e dopo di che si inserisce la superficie non finestrata che vogliamo andare ad isolare in questo caso io ho voluto fare una prova e ho inserito la superficie della sola parete della camera e poi ecco vedremo perché allora in questa osservazione che abbiamo rivisto prima vi riassumo i punti era l'osservazione delle temperature l'osservazione dei danni che poi c'erano quindi l'angolo con delle muffe la sensazione continua di freddo nonostante comunque il termostato indicasse sempre 21 gradi e l'eccessivo caldo estivo insomma sono state fatte queste deduzioni che vi ho riportato insomma è un po' il mio la mia relazione finale ecco dell'osservazione di questo caso quindi si è notato che si è notato che innanzitutto c'era una differenza continua tra la temperatura registrata dal termostato e quella delle pareti di circa scusate quelle della camera di questa camera che era quella un po' più problematica e circa due gradi sia in inverno sia in estate e dopo di che l'infisso della camera era molto grande e quindi durante le giornate invernali di sole effettivamente contribuiva a innalzare la temperatura della della stanza questo è molto bello perché non è una finestra che è stata studiata per questo per questo scopo di solito gli interventi invece di edilizia sostenibile di bioedilizia studiano una vera e propria sara solare ben dimensionata che possa portare grazie al sole un innalzamento della temperatura praticamente gratuito in questo caso la finestra non era stata strutturata per questo ma funziona ugualmente solo che non essendo isolata la camera poi perdeva tutto questo guadagno gratuito che era arrivato insomma in queste giornate di sole quindi anche questo è un dato di progetto però che non è non contribuisce ma è molto importante ed è molto indicativo dopodiché insomma si si capisce insomma facilmente che la sensazione poi di freddo che derivava da questo che si che avevano gli abitanti e che poi si si è anche resa visibile con le muffe e i problemi insomma che sono che si vedevano chiaramente nell'angolo di questa camera sono dovuti al fatto che praticamente metà della camera ha una superficie che dà verso l'esterno che quindi riporta all'interno tutta e tutti i cambi di temperatura che ci sono anche fuori quindi sia il freddo che il caldo e in più c'è ci sono dei ponti termici perché quel punto era sia esposto sia aveva un pilastro ad angolo sia c'era anche un poggiolo quindi sicuramente c'erano tutta una serie di motivi per cui si è capito come mai quell'angolo fosse quello incriminato qui vediamo un riassunto appunto dei dati riferiti però finalmente alla piantina così forse si può capire meglio in rosso l'angolo incriminato ecco la differenza di temperature da più 2 a meno 2 rispetto alla temperatura di riferimento e la camera anche questo interessante la camera che invece aveva una sola parete verso l'esterno e una parete verso un altro appartamento riscaldato non aveva infatti nessun problema pur trovandosi nello stesso lato della camera matrimoniale quindi osservando tutte queste cose che potete osservare anche voi insomma a casa io ho proposto delle soluzioni ci può essere innanzitutto la sostituzione del termosifone così si sostituisce un impianto e automaticamente si ha più calore quindi semplice immediato però con un costo iniziale e anche un costo di manutenzione più alto sostituzione degli infissi classico che quindi anche questo intervento buono che però non è detto che sia adatto al problema che abbiamo in questo appartamento quindi sì è buono per risparmiare ma non è detto che risolva l'angolino dove c'è la muffa e quello che invece propongo io un piccolissimo isolamento che non magari non non sarà un vero intervento di risparmio energetico perché probabilmente in bolletta come abbiamo visto sopra il risparmio sarà basso dato che già l'appartamento non era non aveva grossissime spese ma darà a chi vivrà poi in quella stanza un comfort sicuramente migliore perché il fatto anche di stare a contatto con delle pareti che hanno delle temperature molto più simili alla temperatura interna ci fa stare molto meglio cioè più che altro avere molto caldo avere un'aria interna molto calda durante il periodo invernale ma continuare ad avere una parete che ci trasmette il freddo ci fa stare comunque male perché il nostro corpo acquisisce diciamo la sensazione di temperatura sto usando dei termini ovviamente non tecnici ma spero che vi possano aiutare a far capire ecco noi percepiamo la temperatura in vari modi e quindi ci aiuterà questa parete questa parete che avrà una temperatura molto più alta visto che stiamo parlando dell'inverno ci darà senza aumentare la temperatura dell'aria ci darà una sensazione di benessere e quindi non avremo certo bisogno di aumentare il riscaldamento per concludere questi volevo dare anche un dato pratico sul costo di questo intervento perché anche in edilizia io noto che non si parla mai di soldi ma per fare questi interventi secondo me è fondamentale parlarne quindi io do anche qui una una cifra molto generica giusto per farvi capire l'ordine in cui ci ci posizioniamo un isolamento eseguito solo nella parete della della camera quindi pochissimi metri quadri eseguito completamente da una ditta quindi senza dover muovere un dito ecco io ho fatto conto che dia un recupero dell'investimento dopo ben 10 anni che non è poco però la spesa tutto sommato non è elevata se pensiamo che poi ci risolverà insomma anche una serie di problemi ancora meglio se visto che è una stanzetta io vi do un'altra possibilità cioè che a me piace molto perché insomma come avevo detto mi piace molto anche la parte di autocostruzione quindi con una spesa ridicola rispetto a quella della proposta dalla ditta abbiamo la possibilità insomma di recuperare dopo pochissimo tempo il nostro investimento anzi a distanza di anni ci troveremo più soldi di quelli che abbiamo investito quindi insomma pur con queste cifre molto basse perché ripeto si parla di una paretina quindi comunque sono cifre basse non sono quelle cifre che fanno strabuzzare gli occhi però già si vede che c'è un risparmio che c'è un buon ritorno il tornando al pensiero sistemico insomma di cui avevo parlato al di là dei soldi che sono importanti ma sono un livello del del problema io punterai soprattutto sul benessere che questa soluzione può dare io l'ho rappresentato con questo simbolo il la capacità di questo isolamento che ovviamente io propongo insomma con materiali naturali e quindi tendenzialmente insomma che assorbono anche gli eccessi di umidità che in una camera anche comunque sono importanti e quindi avrete un benessere poi diffuso anche in tutto il resto della casa il la diminuzione comunque delle spese di riscaldamento e e la possibilità che magari analizzeremo la prossima volta di addirittura eliminare il riscaldamento a gas perché se abbiamo visto che i due terzi della bolletta quasi sono di spese fisse una buona strategia potrebbe essere quella di eliminare totalmente la fornitura di gas e installare un isolamento che ci permette di usare molta meno energia per riscaldarci e quindi eliminare totalmente la bolletta del gas questo garantirebbe un risparmio molto molto più alto perché ripeto i due terzi della bolletta sono di sole tasse una bellezza estetica che ho rappresentato con questo bell'occhio perché comunque poi la parete potrà avere varie finiture molto più materiche molto diverse rispetto al solito diciamo gesso che quasi tutti insomma abbiamo in casa e nessun danno visibile quindi non ci saranno più angoli scuri non ci saranno più problemi da dover risolvere quindi come con un simbolo nessuna manutenzione e quindi un risparmio anche secondario di soldi perché non si dovranno fare più manutenzioni e quindi dare di nuovo la pittura e quindi un risparmio secondario comunque nel tempo in più uniamo il fatto che ricordandoci del pensiero sistemico non ci saranno comunque non verranno usate sostanze materiali inquinanti la cui produzione si energivora ci sarà comunque saranno usati solo materiali rispettosi della salute e quindi il benessere sarà sia della persona che ci vive sia dell'ambiente e sia quindi il concetto si estende sempre di più ecco quindi l'intervento anche se piccolo e di modesta entità può fare tanto per il benessere generale questa è un po' la mia la mia opinione quindi questo è un esempio di quello che si può fare delle possibilità che abbiamo e che io penso che possa essere utile a tante persone perché è una situazione molto comune e ho cercato di racchiudere tanti tanti temi in questo esempio che spero insomma si siano colti nella presentazione quindi tutti questi temi che sono stati toccati cerco poi di riassumerli in questo testo che vi voglio proporre che serve sia a me sia a voi per capire quali possono essere i modi per migliorare il modo in cui vivete e per me quali sono i veri problemi e quali sono le vere necessità di tutti voi quindi vi aspetto alla prossima al prossimo incontro di sabato prossimo e spero che mi vierette tutti i test e ne discuteremo al prossimo incontro bene io ho concluso e se ci sono se volete farmi qualche domanda abbiamo ancora un po' di tempo bene allora chi vuole fare una domanda può farsi avanti attiva il microfono e fa la sua domanda io ho visto che in chat allora Francesca chiedeva delle pitture termoisolanti se puoi dare un giudizio su queste Luisa invece parlava di un materiale non meglio identificato che ottiene un ottimo risultato con uno spessore di un solo centimetro ok poi Giorgio invece puoi spiegare meglio perché il corpo in ambiente caldo percepisce la parete è fredda ok Luisa che chiedeva del materiale da un centimetro invece diceva aggiungo il problema è proprio lo spessore sei centimetri non ci stanno cosa si può fare ecco questa è la domanda in chat poi se qualcuno vuole intervenire ecco non so rispondi magari vedi tu ecco intanto ho visto l'ultima domanda intonaci intonaci in canapa orgilla hanno un senso direi perfetto è una sono intonaci che comunque magari non avranno un basso potere isolante ma dipende anche lì da come sono fatti dagli spessori ma sì sì scusa avevo letto male e sono molto importanti per perché danno la possibilità perché assorbono elevate quantità di umidità di vapore e quindi migliorano il microclima interno perché sono estremamente porosi e possono anche in pochi centimetri perché poi l'acqua comunque il vapore viene assorbito solo nel primo strato superficiale possono assorbire veramente elevate quantità di vapore e quindi minimizzare tutti quei problemi di condensa che abbiamo quei picchi anche di vapore che abbiamo quando cuciniamo facciamo la doccia ma anche quando dormiamo a volte basta solo quello e quindi ricollegandomi a questo discorso anche interventi di pochi centimetri cambiano il soprattutto il comfort e il benessere se fatti con materiali naturali argilla calce ovviamente non si potrà vedere un vero e proprio risparmio energetico quindi la bolletta rimarrà praticamente la stessa ma a parità di spesa si starà molto meglio e si eviteranno tutti i problemi anche estetici ma anche di salute derivati magari da condense da mousse ecco questo intanto sì per le altre domande tipo le pitture termoisolanti se potete dare un giudizio sì diciamo pitture termoisolanti se è una pittura è un po' è un po' ecco che abbia un vero e proprio sì che si possa vedere la differenza ecco ci vorrebbe almeno ci vuole uno strato un pochino più importante la pittura si può intendere quella data col pennello quindi sottile quindi è un intervento estetico ecco se invece si fa un intonaco allora si inizia a parlare di qualche centimetro e vale tutto quello che ho detto prima quindi magari non si avrà un vero risparmio bolletta qualcosa che si possa vedere ma un miglioramento del 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 comfort ecco poi a proposito di comfort parleremo del del comfort nella prossima nel prossimo incontro perché proprio volevo entrare più nello specifico e spiegare perché percepiamo la temperatura in modi diversi quando stiamo bene quando stiamo male non è solo una questione di temperatura dell'aria ecco e questo ecco mi parli di aver risposto a tutto ora vedo l'ultima ah grazie per l'intervento grazie quando c'è una parete a gesso mi chiedono se bisogna togliere il gesso per mettere l'isolante ok e allora il gesso in realtà è un materiale che si può tenere ma di solito il gesso negli anni viene ricoperto da strati anche di pitture potrebbero essere anche non traspiranti allora in quel caso sarebbe meglio rimuoverle o comunque potrebbero esserci di base degli intonaci in base cemento che potrebbero essere poco traspiranti quindi diciamo nella successione degli strati l'umidità no non è umidità è vapore non deve incontrare strati che lo fermino perché in quel momento lui potrebbe creare dei problemi quindi la cosa migliore sarebbe sempre comunque rimuoverli ma in linea di massima se l'isolamento non è di grossissimo spessore e se viene eseguito all'esterno soprattutto in linea di massima si può ragionevolmente tenere ecco non si deve rimuovere però bisogna vedere ovviamente il singolo caso insomma bisogna vedere con che cosa è stato ricoperto e nel caso se ci sono dubbi si può fare un'analisi con con un programma che simula un po' tutti gli scambi termici e egrometrici anche nel corso delle stagioni e vedere se effettivamente va rimosso oppure no quindi prima di fare l'intervento si può anche fare spendere un po' di tempo un po' di soldi per fare questa indagine e poi per poi capire se bisogna effettivamente rimuoverlo ecco questo Elena ti chiedo solo una cosa ero curioso anch'io in effetti c'era una domanda una persona diceva però se tolgo la fornitura di gas acqua calda e io aggiungo chiaramente il cucinare i cibi devo fare tutto con un limpiante elettrico insomma ecco sì 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 ovviamente siccome abbiamo parlato un pochettino anche di pensiero sistemico quando si vuole fare un passo di questo tipo bisogna pensare un po' tutto il sistema quindi si può ad esempio forse si può installare qualche pannello fotovoltaico e utilizzare una pompa di calore oppure minimizzare la pompa di calore serve a riscaldare ma si possono utilizzare qualcosa che assomiglia molto alla caldaia che abbiamo adesso ma che comunque scaldi l'acqua calda e che però vada a funzioni solo con la corrente quindi bisogna vedere che tipo di consumi una persona ha e se la casa è molto isolata se non è isolata o se eventualmente cioè si può usare un serbatoio ci sono tanti interventi comunque si si usa l'energia elettrica per sia riscaldare l'acqua e sia cucinare ecco a quel punto diventa poca energia perché la maggior parte dell'energia viene utilizzata per il riscaldamento quindi vai a compensare comunque le spese di tasse e di quelle che abbiamo detto prima con magari una spesa leggermente superiore ma solo di energia elettrica bene allora cosa dici ci vediamo alla prossima il prossimo incontro del nove sì per me sì ho visto un'altra domanda ma magari rispondo con calma dopo allora vi ricordo insomma che vi vi invieremo il test allora via mail e poi ci troveremo appunto sabato prossimo e vedremo i risultati di questo test e ne parleremo insieme